Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Predizioni Torino Juventus Ragazzi c'è da vincere, c'è da vincere Perché siamo messi in una situazione Di schifo ragazzi Ci siamo messi in una situazione schifo Abbiamo perso 2-0 contro l'ultima In classifica del nostro Dione di Champions Una squadra che se era il Napoli Là doveva spaccarlo 5-0 Noi abbiamo perso 2-0 Noi che sulla canta siamo molto più forti del Napoli Ma questa stagione ragazzi Abbiamo fatto veramente schifo Veramente schifo Ieri sera abbiamo messo praticamente La cilettina sulla torta 2-0 contro il Maccabi Afia Ci rendiamo conto Come vuoi vincere il derby Come vuoi vincere Spiegatemi Come vuoi vincere il derby Dopo che hai perso con la squadra più scarsa del girone Come vuoi vincerlo? Perché ovviamente il Maccabi Afia è una cosa Ma quando il Torino gioca contro di noi Diventa il Barcellona del 2009 ragazzi Diventa il Barcellona del 2011 Diventa una squadra che se non stai Attendo questi si purgano E ci purgano più di Dante ragazzi Ci spaccano in due Ci spaccano in due Attenzione ragazzi Perché non sarà una partita né facile Né banale E né che puoi vincere Facendo minchiate Se fai le minchiate Questi ci spaccano 3-0 Questi ragazzi ci spaccano 3-0 Ve lo dico adesso Ve lo dico adesso Il Torino è capace Il Torino ragazzi è capace Quella squadra che non ti aspetti Che ti purga Ma alla fine ti può purgare Se gli permette di purgarsi ragazzi Se cominciamo a prendere i gol Già inizia male Già inizia male ragazzi Bisogna tenere almeno stavolta Almeno questa peneletta A volte un punteggio pulito Un punteggio pulito ragazzi Perché è fondamentale vincere I 3 punti sono sacrosanti ragazzi In questo momento adesso vediamo un attimo In che posizione siamo messi In campionato In Champions Siamo terzi Nel girone Vediamo un attimo Classifica Ho qui OneFootball ragazzi Scaricatela La migliore applicazione del calcio Vediamo un attimo In che posizione siamo messi Vediamo Aspetta un attimo Ok ragazzi Siamo messi Ottavi in classifica Il Torino è messo Decimo in classifica Non so se si vede Siamo messi Ottavi in classifica Il Torino è messo Decimo C'è da vincere ragazzi E' importantissimo Importantissimo Perché se vinciamo Andiamo ovviamente A 16 punti E il Torino Ovviamente scenderebbe Ma se perdiamo Ragazzi Se perdiamo Andiamo al decimo posto Ci rendiamo Al decimo posto Non siamo mai stati Così bassi In questo periodo Della stagione ragazzi Mai stati così bassi C'è da svegliarci C'è da svegliarci Comunque Devo dare un pronostico Devo essere sincero Secondo me Stavolta Stavolta Vinciamo Ma ragazzi Starà difficilissimo Starà difficilissimo Senza prendere gol E vado per Torino 0 Juventus 2 Penso che siano i Milik E poi anche Filippo Costi Ragazzi Non mi dico Scrivetevi nei commenti Il vostro pronostico Commentare Scrivetevi al canale Noi ci becchiamo Nel prossimo video Fino alla fine ragazzi Sempre su Forza Juve Anche se fai le figure Il cacchio In Israele Conto l'ultima del girone Io sempre sarò con te Fino alla fine Ci invitiamo Ciao ragazzi Sempre su Forza Juve Ciao ragazzi E sempre su Forza Juve Ciao